Si terrà domani presso l'Aula Magna dell'Istituto Linares a Licata alle 11, il primo evento a scopo formativo mirato a una sistematica e razionale esposizione dell'offerta formativa della Facoltà di Ingegneria dell'Ateneo di Palermo e dei poli decentrati di Agrigento e Caltanissetta. L'evento è promosso dall'Associazione Socioculturale Vivere Licata di cui è presidente Ivan Marchese. Interverranno Fabrizio Micari, preside della Facoltà di Ingegneria dell'Ateneo di Palermo Marcella Cannarozzo, responsabile test d'ammissione e Marco Perconti, senatore accademico dell'Associazione Studentesca dell'Ateneo di Palermo, fare università e membro di fare città. I lavori sono stati introdotti dal preside dell'Istituto Santino Lopresti e con la costante presenza del moderatore, nonché presidente dell'Associazione di Accolto. Belli convinti winner, rovita... Belli